Eccoci qua, buongiorno a tutti, di cosa voglio parlare oggi? Se è giusto o meno rimproverare il cane quando lo portiamo a casa è sporca, dove non dovrebbe, quindi magari è in soggiorno. Allora dovete considerare che il cane, diciamo, non sa se è giusto o meno sporcare in casa, quindi quando noi lo rimproveriamo il cane non pensa ah mi ha rimproverato perché ho sporcato in casa, associa quell'emozione negativa al fatto che è sporca, quindi dopo noi lo andiamo a portare fuori e il cane cosa pensa? Non faccio niente perché ce l'ho qui vicino, se no mi rimprovera. Dopo torna a casa, si nasconde dal divano e fa la pipì. Questo è il classico caso di quando sento persone che dicono ah per sette mesi il mio cane l'ho portato fuori e non faceva niente, dopo tornava a casa, si nascondeva e faceva la pipì, perché ci sono stati questi generi di errori, questi generi di condizionamenti errati all'inizio, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo premiarlo quando sporca fuori, quindi quando noi vediamo che il cane sporca fuori, premiarlo a un pezzettino di cibo, accarezzandolo, incoraggiandolo, facendo un'associazione positiva a questo, allora il cane capirà che farà un qualcosa di fatto bene a sporcare fuori. Ricordiamoci che i rinforzi positivi funzionano molto meglio di quelli negativi e sono veramente molto importanti, quindi all'inizio se il cane sporca in casa non lo rimproverate. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.